Rifondazione comunista è tornata in presidio al mercato e questa volta nello stand del partito non si vendevano solo le arance per gli operai della Eton. L'iniziativa dei giovani comunisti Arancia Metal Meccanica per un giorno si è associata alla battaglia nazionale della FIOM contro l'accordo di Mirafiori e davanti al Guglielmi come nel resto del paese si poteva firmare un appello contro l'accordo proposto da FIAT per lo stabilimento di Torino. Una petizione online già sottoscritta da tante personalità come Andrea Camilleri, Dario Fo e Francarame, un ultimo tentativo di serrare le fila in vista del referendum di giovedì e venerdì prossimo. Perché dovremmo firmare questo appello? Dovremmo firmare questo appello perché la posta in gioco in questo momento a Mirafiori è altissima e non riguarda soltanto Mirafiori, non riguarda soltanto i lavoratori FIAT ma riguarda i lavoratori di tutto il nostro paese. Quello che sta avvenendo è un attacco spropositato ai diritti, alle tutele, a principi sacrosanti. I massesi hanno firmato? I massesi stanno dando un buon contributo, nonostante la novità anche della modalità con cui stiamo raccogliendo queste adesioni perché con un collegamento online, in diretta, insomma la lentezza delle cose, comunque abbiamo raccolto sicuramente oltre 70 adesioni stamani mattina qui al mercato, abbiamo venduto anche stamani mattina tutte le arance raccogliendo fondi a sostegno dei lavoratori ITON, quindi possiamo dire che il nostro lavoro di stamani è stato un lavoro sicuramente proficuo. Grazie